Oggi l'appuntamento è qui, in via circonvallazione sottomorreale da Motomondo per entrare nell'universo ideale di tutti gli amanti delle due ruote. Nello showroom, l'ampia scelta di modelli, il lucchichio, i colori, mi affassionano e mi fanno segnare. Totò, che novità ci sono? Ma sono già arrivati i modelli 2009, tra la tanto attesa c'è la nuova XJ600, con un prezzo di partenza molto interessante, sicuramente ci darà delle grosse soddisfazioni. Sì, ma io non posso tradire la mia femminilità, il mio essere donna, perché va bene la moto, i modelli da strafighi, ma l'immagine ne vogliamo parlare. E così, in un attimo, sono già nella mia zona. Ho quasi l'imbarazzo della scelta. La scelta di un giubbotto, per la città, per la montagna, già fa capire chi sei. La scelta di un giubbotto, per la città, per la città, per la città. Il casco è un vero biglietto da visita, per grandi e piccini. E poi, non possiamo trascurare gli accessori. Un'ottima idea regalo. E la vostra mitica carta? È sempre in funzione, per tutti i regali, gli acquisti, fino a 5.000 euro, tasso zero, senza alcun costo. È senza busta paga.